Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia. Tra due giorni è Natale e purtroppo quest'anno, come immagino tutti sappiate, il Natale sarà festeggiato in maniera un po' diversa. Per chi è religioso rimane comunque una festa religiosa, per chi non lo è rimane quantomeno un momento di festa, un momento per fermarsi, per rilassarsi, magari per pensare anche a questo lungo anno appena passato, ma sicuramente un Natale diverso rispetto a quelli che ci sono stati fino ad adesso. Vuoi per motivi economici, vuoi per le difficoltà a vedere i parenti, vuoi per il lockdown. Di certo una cosa però, sono sicuro al 100% non mancherà e sarà il cibo. Da che mi ricordi a Natale si mangia. Si mangia in Nord Italia, si mangia in Centro Italia, si mangia a Sud Italia, si mangia credo in tutta Europa. A Natale ci si fanno delle grandi abbuffate. E così per questa pillola pre-natalizia, perché a Natale probabilmente ci sarà una pillola un po' diversa, ho deciso di parlarvi di cibo. Ah, di cibo. Quindi mettiamo da parte la grande storia, mettiamo da parte le battaglie, mettiamo da parte la diplomazia. No, aspettate. La diplomazia non mettiamola da parte, perché diplomazia e cibo sono sempre andate a braccetto. A tavola si sono firmati accordi, si sono stracciati accordi, sono iniziate e sono finite guerre. E questo probabilmente da che l'uomo ha iniziato. Sono convinto che le prime due tribù a litigarsi qualcosa, facendo scoppiare uno scontro, si siano poi alla fine accordate a tavola. La nostra storia però inizia in un castello. Un castello in Francia, che è il castello di Chantilly, e in questo caso Nomen Omen, poi vi spiegherò il perché, e il 24 aprile del 1671, e un venerdì, ricordatevelo perché è molto importante che sia venerdì, e un uomo sta nervosamente fissando l'orizzonte. Quell'uomo che sta aspettando, nervoso, ansioso, che arrivino dei carri, carichi di pesce, quei carri che lui ha ordinato, che al più presto coprissero i 220 chilometri che separano il castello dalla costa, si chiama François Vatelle. È uno dei cuochi più famosi della storia, e potremmo dire è il cuoco di Luigi XIV. In realtà, nel 1671, François Vatelle, che ha 40 anni ed è cuoco da almeno 25, ha iniziato su apprendistato quando aveva appena 15 anni, che in realtà non è mai stato direttamente il cuoco di Luigi XIV, ma ha già cucinato per lui due volte. Due volte che sono molto, molto importanti. Vatelle è un cuoco, uno di quei cuochi che riescono non solo a cucinare, ma riescono ad organizzare dei giganteschi pranzi, delle gigantesche rappresentazioni, che sono una vera e propria ostentazione di potere e di ricchezza per chi li finanzia, insomma, per i padroni di Vatelle stesso. All'epoca, essere un grande cuoco non voleva dire solamente avere padronanza nella cucina, anzi, molto spesso, esattamente come fanno gli chef adesso, i grandi cuochi si limitavano a dirigere la cucina, creando le ricette, creando soprattutto i menù, e andando ad intervenire solamente quando qualcosa non andava bene. In più, all'epoca potremmo dire che i cuochi erano anche dei gestori di catering, perché non dovevano gestire semplicemente la cucina di un ristorante con 40, 50, 60 posti, ma si trovavano a dover gestire dei giganteschi banchetti, delle gigantesche cerimonie, che potevano sfamare 4, 5 mila persone, 5 mila persone, pensate quanti sono, non per un giorno, non per due, ma magari per tre giorni o addirittura una settimana. E insieme a loro dovevano lavorare ovviamente tutta una serie di artisti, da chi pensava all'intrattenimento, chi pensava alla musica, chi si occupava degli addobbi, dei tavoli e così via. Tutto diretto da questi cuochi, da questi grandi chef, tra cui appunto all'epoca François Vattel era uno dei più famosi. Quel giorno Vattel stava cucinando proprio per Luigi XIV. Il suo padrono ovviamente non era il sovrano, ma era il Gran Condè, un uomo che era stato uno dei grandi di Francia, era un principe di sangue, era uno degli uomini più vicini alla corona, che però da tempo, a causa della sua vicinanza alla Fronda, cioè a coloro che si erano posti tra i nobili, a Luigi XIV, quando era ancora un minore, era stato messo in disparte e che proprio attraverso un grande banchetto nel suo castello di Chantilly stava cercando di riacquisire potere. Luigi II di Borbone, principe di Condè, a soli 22 anni era già probabilmente il più grande comandante di Francia. Aveva guidato le armate francesi nella battaglia di Rocroi, che aveva ribaltato le sorti della Guerra dei Trent'anni tra la Spagna e la Francia, ovviamente questa era una parte della Guerra dei Trent'anni, ma lo scontro tra gli spagnoli e i francesi, le aveva guidate ad una vittoria letteralmente storica, che insieme alla battaglia di Lens, vinta poco dopo, aveva permesso alle armate francesi di ergersi vittoriose sulla Spagna. Questo aveva fatto di lui, che veniva all'epoca paragonato addirittura ad Alessandro Magno, uno degli uomini più potenti di Francia. Il trono francese all'epoca però era molto instabile. Il giovane re Luigi XIV infatti era ancora minorenne e a regnare in sua vece erano il Cardinal Mazzarino e la madre. Questo ovviamente aveva scatenato molti problemi all'interno, con la comparsa di due fronde, cioè di due ribellioni contro il sovrano. La prima, una fronda popolare scoppiata a Parigi, che in cui il Gran Condè, come veniva chiamato appunto il Principe di Condè, Luigi di Borbone, aveva si raschierato dalla parte del re, anzi aveva utilizzato le sue truppe proprio per spegnere quella fronda. La seconda era invece stata la fronda dei principi, scatenata da alcuni dei più grandi nobili di Francia, i quali si erano schierati contro il sovrano, ma soprattutto contro Mazzarino e la madre, che lo controllavano. Luigi XIV, però una volta raggiunta la maggiorità, oltre i 13 anni, aveva deciso di sfidare e soprattutto di liberarsi di quei principi. E così uno dopo l'altro ne aveva sconfitti, costringendo il Gran Condè alla fuga, costringendolo a raggiungere quello che prima era stato nemico, cioè gli spagnoli. Il Condè combatterà come comandante delle armate spagnole contro la Francia, ribaltando così la sua posizione, cosa che ovviamente gli costerà non solo l'esilio, non solo la promessa di ucciderlo qualora fosse stato catturato, ma anche la requisizione di tutte le sue terre, di tutti i suoi castelli, compreso il castello di Chantilly, dove la nostra storia è iniziata. Le cose poi andranno diversamente. Il Gran Condè verrà sconfitto, con lui la Spagna, verrà sconfitto da un altro comandante francese, Turenne, ma nel Trattato dei Pirenei, che sancirà la pace fra i due schieramenti, c'erano addirittura delle postille che andavano proprio a indicare quale sarebbe stato il destino di Luigi di Borbò, nel quale fu perdonato, dopo aver chiesto scusa in udienza privatissima al sovrano, era presente solo il sovrano, la madre e Mazzarino stesso, dopo aver chiesto scusa, venne perdonato e gli furono restituiti le sue terre e i suoi castelli, tra cui il castello di Chantilly, che però era stato privato di tutte le sue ricchezze, alcune peraltro trasportate a Versailles per adornare la reggia che stava nascendo. Ovviamente il perdono non aveva significato il ritorno allo status precedente, anzi per quasi dieci anni il Gran Condè era stato tenuto lontano dai comandi militari, cosa che ovviamente, essendo lui un principe di sangue, l'ha visto friggere nella speranza di tornare a comandare delle truppe. Alla fine, però, il re Luigi XIV, che stava organizzando una nuova campagna per la conquista delle fiandre, questa volta contro gli olandesi e forse anche contro gli inglesi, aveva deciso di richiamare il suo principe. Si era così deciso di fare un incontro in cui i due avrebbero dovuto parlare e Luigi XIV, che non poteva affidare forse le sue truppe a Turenne, che era sì cattolico, ma si era convertito da poco, prima era nato protestante, e quindi in una guerra che si prospettava avere quantomeno delle giustificazioni religiose non appariva esattamente il miglior comandante, il sovrano aveva deciso di rincontrare il suo vecchio comandante, il Grand Condé, e vedere se affidargli nuovamente il comando delle armate. Affinché il re si trovasse a suo agio, era necessario organizzare un gigantesco banchetto. Vatel aveva organizzato proprio quel gigantesco banchetto e l'aveva fatto secondo la nuova moda della cucina francese. Ora, quando i francesi creano un nuovo stile di cucina, lo chiamano Nouvelle Cuisine. Cuisine, per averlo pronunciato bene. Ora, quando noi parliamo di Nouvelle Cuisine oggi, stiamo parlando di uno stile di cucina molto minimalista, credo che tutti voi lo conosciate, che è nato proprio in Francia nel 1972. Ovviamente la Nouvelle Cuisine di cui parliamo nel 1671 è la Nouvelle Cuisine dell'epoca, anche perché Nouvelle Cuisine vuol dire la nuova cucina, quindi è un termine molto generico. Sotto un certo punto di vista, però, anche la Nouvelle Cuisine di Vatel era qualcosa di molto minimalista, non paragonabile a quella di oggi, ma decisamente del genere. All'epoca, infatti, andava per la maggiore fare dei pranzi che fossero molto abbondanti, ma soprattutto in cui i gusti si mischiassero profondamente. All'epoca era considerato un qualcosa di molto fine, molto ricco, presentare dei piatti che avessero al loro interno molti tipi di carne diverse, con tante spezie, tante erbe, prezzemolo, quant'altro, insomma, tutta un insieme di gusti che dovevano amalgamarsi perfettamente in un gusto che veniva considerato perfetto. Magari ne parleremo in futuro, ma se ci pensate, questa è una politica, diciamo, di cucina che era nata nel Medioevo e si era poi diffusa attraverso il Rinascimento fino appunto al 1500-1600. In Francia, nel 1600, grazie anche all'opera di un altro cuoco che si chiamava Bonnefons, iniziò invece a svilupparsi una teoria leggermente diversa. Secondo questa teoria, infatti, detto molto semplicemente, la carne doveva sapere di carne, la zuppa di cicoria doveva sapere di cicori, la zuppa di cavoli doveva sapere di cavoli, così come il tordo doveva sapere di tordo. Insomma, era necessario cercare di presentare ogni singolo piatto in un modo molto molto semplice, di modo che il gusto originario ne venisse esaltato. Per questo, per la sera precedente, quando inizia la nostra storia, quindi per la sera del 23 aprile 1671, quando il re era arrivato insieme a tutto il suo gran seguito, Vatelle aveva organizzato una grande cena a base di carne. A differenza di come si faceva fino a quel momento in cui le carni venivano mischiate, aveva deciso di presentare i piatti separatamente, dando a ogni carne la sua centralità, non riempendola di spezie, ma facendo delle piccole salsine che appena appena ne esaltavano i gusti e presentandoli così separate. Inoltre, a differenza di quello che si faceva all'epoca in cui la verdura veniva messa letteralmente dentro la carne a riempirla, aveva deciso di servirla separatamente e non riempendole di salse. Pensate che ad esempio all'epoca la cucina classica prevedeva che gli spinaci dovessero essere serviti coperti di miele insieme a delle mele, peraltro pensate il gusto quanto diventasse agrodolce, insieme a salse, insieme a spezie e come qualcuno faceva notare poi sapevano di qualunque cosa tranne che di spinaci. Beh, no. Vatelle invece li serviva semplicemente con una piccola salsina fatta di burro appena sciolto mischiato con un po' di prezzemolo che era tra l'altro uno dei punti cardine della sua cucina. In quella cena inoltre per stupire gli ospiti aveva fatto una cosa che oggi ci può sembrare normalissima ma che per l'epoca era assurda. Aveva preso i dolci e li aveva messi alla fine del pasto. Ora, noi siamo abituati che il dolce si mangia alla fine ma in realtà all'epoca non era così. I dolci all'epoca venivano mangiati durante il pasto anzi andavano molto spesso a inframmezzare una portata e l'altra di modo da spezzare un pochettino il gusto tagliare il gusto del salato perché immaginate questi piatti così pieni così ricchi alla lunga si sarebbero un pochettino assomigliati di gusto e quindi si usava il dolce per spezzare il mangiare un po' come si fa oggi che nei pranzi più grossi si usano ad esempio i sorbetti classico a base di limone per spezzare i gusti e beh, nell'epoca lo si faceva con i dolci. Vatel decise di spostare il dolce alla fine presentando appunto tutti i dolci solamente alla fine e intervallando piuttosto le portate con della frutta fresca che era servita sui tavoli che poteva servire appunto per sciacquare il palato tra una portata e l'altra questi piatti erano questi piatti questi pranzi erano o pranzi o cene erano assolutamente enormi con decine e decine di portate cose che credo che i nostri matrimoni oggi impallidiscano e Vatel che si aspettava di dover servire piatti per circa 3000 persone era riuscito a servire questi piatti per ben 5000 persone cioè per l'intero seguito di Luigi XIV che aveva detto che sarebbe venuto appunto con 2 o 3000 amici sapete vengo a casa quanti siete ma 2 o 3000 e invece si erano presentati in 5000 Vatel era già disperato perché pare che in alcuni tavoli di carne ne fosse un po' mancata cioè invece di 10-12 tipi di carne ne erano purtroppo arrivati solo 7-8 e temeva che questo avrebbe fatto fare brutta figura al principe che invece l'aveva rassicurato dicendo che andava tutto bene come detto alla fine poi tutti erano rimasti stupiti da questi dolci alla fine tra l'altro una curiosità è possibile che il termine dessert che deriva appunto dalla fine venga da cui appunto parliamo del dessert per il dolce venga proprio dal fatto di essere servito dopo aver deservito deserve la tavola che appunto rimaneva deserta potrebbero essere le due etimologie del termine dessert ve la lascio come curiosità insomma la cena della sera precedente era andata molto molto bene ma qualcosa a Vatel quella mattina non andava bene perché perché era venerdì e venerdì tradizionalmente bisognava mangiare di magro dato che il sovrano di Francia stava per iniziare una guerra ufficialmente per motivi religiosi forse era il caso di mangiare di magro di far vedere che era venerdì e si mangiava pesce il problema era che Vatel proprio per questa sua politica del voler spogliare il cibo di spezie e quant'altro aveva bisogno che il pesce arrivasse freschissimo anche perché la sua idea era quello di servire ogni pesce con piccole salsine appena appena accennate di modo da esaltare proprio il gusto del pesce ma se il pesce fosse stato vecchio ebbene quel gusto non sarebbe stato niente di che ovviamente il principe avrebbe fatto una pessima figura il problema è che era necessario che quel pesce venisse pescato di notte e che poi venisse portato molto rapidamente con dei carri al castello di Chantilly per essere servito il programma era proprio quello fare una gigantesca un gigantesco pranzo a base di pesce servendo appunto pesci d'acqua dolce pesce di mare ostriche frutti di mare e concluderlo alla fine con il dolce particolare inventato proprio da Vattel una crema che lui serviva personalmente insieme a delle fragole una crema che aveva in realtà creato qualche anno prima ma che proprio in onore di questo di questo avvenimento che si teneva al castello di Chantilly aveva deciso di chiamare crema Chantilly e da lì il nome rimase peccato che il pesce non arrivava questo fece pensare al nostro Vattel che già in passato si era si era probabilmente pensò che già in passato aveva lavorato per nutrire il re di Francia Luigi XIV e che anche in quel caso le cose non erano andate benissimo dobbiamo fare un salto indietro di dieci anni fino al 17 agosto del 1661 all'epoca il nostro Vattel che aveva 30 anni era già un capocuoco era già molto famoso ed era al servizio dell'uomo più ricco di Francia Nicolas Fouquet Fouquet non era nobile o meglio della piccola nobiltà ma era diventato molto potente e molto ricco perché da anni era ministro del tesoro per farla molto breve del regno di Francia era l'uomo che per lunghi anni era stato incaricato di riscuotere le tasse organizzare la riscossione delle tasse ma per farla breve trovare il denaro che alla corona all'epoca il principe era ancora il re era ancora minorenne quando venne divenne ministro alla corona e a mazzarino servivano per vivere ovviamente ma soprattutto per portare avanti la lunga e dispendiosa guerra contro i loro avversari nella guerra dei trent'anni Fouquet aveva agito bene non solo ma aveva portato a una crescita economica del regno di Francia crescita economica che sotto un certo punto di vista aveva arricchito anche lui che si ovviamente riscuoteva le tasse si gestiva i prestiti si gestiva il denaro ma qualcosa riusciva a far scivolare nelle sue tasche cosa che gli aveva permesso di diventare appunto uno degli uomini più ricchi di Francia e di crearsi una magnifica residenza che vedete tra l'altro qui a fianco a me dove proprio il 17 agosto 1661 aveva deciso di tenere una gigantesca inaugurazione talmente grande che Molière che era uno dei tanti uomini di cultura che circolavano proprio intorno a Fouquet che aveva un proprio circolo privato aveva addirittura organizzato una rappresentazione su un testo originale proprio per quella inaugurazione qualcosa però non andava tanto bene Luigi XIV infatti era diventato maggiorenni aveva assunto in sé la carica di sovrano assoluto dalla morte di Mazzarino poi aveva deciso di non avere più alcun primo ministro ma aveva via via esautorato quasi tutti i suoi ministri per cercare di mantenere il potere Fouquet però era troppo potente per poterlo fare a cuor leggero perché aveva grossi interessi economici aveva molta amicizia il timore era che non solo i principi ma anche i mercanti i ricchi borghesi i ricchi banchieri potessero ribellarsi contro di lui per questo aveva lentamente preparato una serie di prove aveva fatto preparare una serie di prove che andavano a raccontare di come Fouquet negli anni avesse si gestito le finanze ma se ne fosse anche impossessato in una gran parte e proprio con quelle finanze avesse finanziato il castello ora siamo seri molto probabilmente molte di quelle prove erano vere ma in realtà chi le stava raccogliendo aveva fatto probabilmente la stessa cosa negli stessi anni insomma era solo un pretesto Luigi XIV però era rimasto un po' in dubbio sappiamo che probabilmente per qualche mese dubitò se portare a termine il suo piano imprigionare Fouquet oppure no quel giorno però era stato invitato lui insieme al suo seguito proprio all'inaugurazione di quella villa di quel castello l'inaugurazione organizzata anche da Vatelle era stata grandiosa in questo caso Vatelle aveva creato delle gigantesche strutture di zucchero ghiaccio aveva accompagnato pesci carni separate unite aveva fatto un tripudio uno dei pranzi che vennero ricordati come i più grandi di tutto il secolo tanta era la ricchezza di Fouquet tanta era la bravura di Vatelle il problema è che il re di Francia se ne sentì offeso perché si rese conto che lui che era re in Francia non avrebbe mai avuto i soldi mai avuto la ricchezza mai avuto una residenza così bella per poter organizzare un tale evento e così si era deciso aveva fatto imprigionare Fouquet che passerà poi il resto della sua vita a Pinerolo pensate nella fortezza di Pinerolo che all'epoca era il posto più lontano in cui un re di Francia poteva mandare un suo oppositore qualcuno racconta che ci fosse anche la maschera di ferro a Pinerolo ma lasciamo stare e tra l'altro pare che Fouquet fosse stato catturato proprio da D'Artagnan o meglio dalla figura storica che ha ispirato D'Artagnan e questo costrinse lo stesso Vatelle alla fuga Vatelle fuggì in Inghilterra poi fuggì nelle Fiandre e alla fine perdonato tornò in Francia ed era appunto arrivato al servizio del Condè insomma quella mattina del 24 aprile 1671 Vatelle fissava l'orizzonte pensando che una volta aveva dannato il suo padrone perché aveva fatto una festa troppo ben riuscita che aveva spinto Luigi XIV metterlo in galera e ora rischiava di dannare il suo nuovo padrone il principe per una festa che non sarebbe riuscita perché quel giorno quel venerdì lui avrebbe anche potuto servire delle uova anche potuto servire del formaggio magari sarebbe stato in grado di farlo in modo da far sembrare del pesce ma tutti si sarebbero resi conto del disastro e così probabilmente Luigi XIV avrebbe pensato che un principe che non è in grado neanche di avere il cibo per sfamare i suoi ospiti come avrebbe mai potuto sfamare delle truppe un uomo che non sapeva dirigere una casa come poteva dirigere un esercito e così tutto sarebbe stato perduto Vatel dopo aver guardato ancora una volta sconsolato l'orizzonte decise che era troppo decise che disse che se anche si fosse lui stesso avesse raccontato tutto al sovrano comunque l'onta e il disonore sarebbero andati sul suo padrone di casa e questo lui che era un uomo assolutamente perfezionista non poteva tollerarlo e così salì in camera prese la spada che non usava mai ma che portava appoggiata al muro ci si buttò sopra e morì la fine di questa storia venne raccontata in due modi a seconda delle fonti secondo alcune fonti il corpo venne scoperto praticamente subito ci si rese conto che appunto mancava mancava il pesce ma sfruttando appunto il piano di riserva che Vatel non aveva voluto seguire perché considerava troppo poco grandioso si riuscì comunque ad organizzare un gran pranzo il pranzo andò bene così la cena seguente il programma riuscì comunque a supplire e alla fine il re di Francia concesse al gran condè il comando delle truppe secondo un'altra versione invece il corpo non venne scoperto subito ma quando tre ore dopo finalmente i carrettieri arrivarono portando tutto il pesce che era stato richiesto ci si rese conto che Vatel non si trovava da nessuna parte lo cercarono per il castello lo cercarono per le cucine alla fine aprirono la porta della sua stanza e lo trovarono morto decisero in suo onore e capendo quale fosse stato l'errore di fare tutto il resto del pranzo e della cena esattamente come lui l'aveva programmato e fu una delle meraviglie più grandi che la Francia dal punto di vista culinario avesse mai visto talmente grande che nonostante lui fosse morto suicida all'epoca ovviamente era considerato peccato anzi in Francia c'era addirittura una legge che obbligava a buttare i corpi dei suicidi in mezzo alla spazzatura senza seppellirli Luigi XIV stesso lo perdonò e permise che venisse sepolto in terra consacrato quantomeno nella terra insomma Vattel uno dei più grandi cuochi di Francia che per due volte cucinò per Luigi XIV una volta costretto all'esilio una volta morto suicida probabilmente entrambe le volte riuscendo a fare dei pranzi delle cene grandiosi la seconda non sapendo mai che andò comunque a termine nel migliore dei modi spero che questa mia pillola vi sia piaciuta vi abbia magari un po' stimolato l'appetito preparatevi perché nei prossimi giorni immagino ci sarà parecchio da mangiare io vi saluto auguro buone festa auguro buon Natale e vi ricordo come al solito di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che a volte iniziano a tavola che possono anche essere di ispirazione per dei film perché esiste un film dedicato a questa storia cioè appunto Vattel che è interpretato da Girard Depardieu che fa proprio il cuoco la storia è leggermente diversa soprattutto del finale ci sono delle aggiunte romantiche eccetera ma io l'ho sempre trovato molto carino per la rappresentazione che viene fatto della vita di Francia e della cucina dell'epoca quindi se siete curiosi guardate è un film che secondo me merita senza però essere comunque un capolavoro ci vediamo forse a Natale già perché potrebbe uscire una pillola ucronica cioè la prossima puntata potrebbe essere un mio regalo di Natale se riesco a prepararlo se no comunque sarà la prossima a presto buone feste a tutti se volete recuperare in queste feste qualche pillola di storia vecchia qui a fianco ce ne elenco di quelle uscite fino adesso a presto ciao ciao